Ciao amici Value Investor! Qual è il momento migliore per investire? Quando sta andando tutta l'aria, ovviamente. Ma se questo lo dico io, che non sono nessuno e non ho l'attestato di consulente finanziario o di professore di economia all'università, sicuramente avrete più di un dubbio sulle mie parole. E fate bene, del resto chissano di mente prenderebbe consigli da uno youtuber. Per questo ho deciso di condividere con voi una lettera di un grande investitore, qualcuno di cui potersi fidare, François Rochon, uno dei più grandi investitori della storia. E a dirlo non sono io, ma i numeri. Dal 1993 al 2022 il suo portafoglio ha avuto un rendimento medio annualizzato del 14,5%. E nel ben mezzo della grande crisi finanziaria scoppiata nel 2008, Rochon scrisse una breve lettera agli azionisti del suo fondo, Kiberney Capital, dal titolo L'opportunità di una generazione. E questa lettera ci darà buoni spunti su qual è il momento migliore per investire, come sapere che è arrivato questo momento e come cogliere al meglio le grosse rare occasioni che la vita ci presenta. E la lettera inizia dicendo Il 2008 è stato un anno difficile per il mercato finanziario, per usare un efemismo. Noi crediamo che il crollo del mercato e l'elevato livello di pessimismo ha creato grandi opportunità di investimento, ad un livello che raramente abbiamo visto nella storia moderna dei mercati finanziari. Da questi livelli così depressi, noi crediamo che il rendimento potenziale delle azioni sia molto alto, crediamo che il potenziale ritorno per le azioni in generale non è mai stato così promettente dal 1979. E poi Rochon elenca in punti qual era la situazione all'epoca e i motivi di questa loro visione ottimista per le azioni. Uno dice In generale il prezzo delle azioni è molto basso. Il peer ratio con utili normalizzati per l'SP500 è intorno a 9. Pensate che la media storica è intorno a 15. Due La fiducia dei consumatori è a livelli più bassi di sempre, cioè a 25 e il valore più basso era stato raggiunto nel 1974 a 42. Quindi la situazione per quanto riguarda i consumi era drammatica. Tre Solo negli Stati Uniti si sono accumulati 7.000 miliardi di dollari in cash pronti per essere messi sul mercato. Cioè la gente era così pessimista e così poco propensa a spendere che aveva accumulato un ammontare di liquidità sufficiente per acquistare tutte le aziende dell'SP500. Quattro I rendimenti sui titoli di Stato sono quasi zero perché il governo stava cercando di stimolare l'economia. L'alternativa ai bond è molto più attraente. Cinque La maggior parte degli investitori è pessimista. Gli istituzionali hanno allocato molto poco in azioni. Storicamente questi sono stati segnali di futuri grandi ritorni per le azioni. Quindi nessuno ci credeva più nel mercato azionario. Così come scappavano via dalle azioni i retail, lo facevano anche gli istituzionali. Anzi, loro erano scappati anche prima. Sei Possiamo comprare le azioni ad un terzo del loro valore intrinseco. Una situazione che raramente si è vista prima. Infine, il leggendario investitore Warren Buffett è molto ottimista sulle azioni e per la prima volta dal 1979 ha raccomandato agli investitori di investire in azioni. Buffett scrisse Una semplice regola guida i miei investimenti. Essere spaventati quando gli altri sono avidi ed essere avidi quando gli altri sono spaventati. E sicuramente la paura adesso è diffusa e attanaglia anche gli investitori più esperti. E concludero Sean Alla Giverny Capital siamo pronti per il prossimo bull market. Allora, io penso che questa sia una lettera stupenda. Ora siamo tutti entusiasti per le azioni. Ma arriverà un giorno in cui nessuno le vorrà toccare nemmeno più con un bastone. In realtà, per le azioni di determinati mercati geografici è già così. Ma quando arriverà quel momento? Quella potrà essere l'opportunità di una generazione. Quando tutti avranno paura di comprare azioni e chi invece riuscirà a rimanere calmo e razionale e fare l'opposto di quello che fanno gli altri a non seguire il gregge a non seguire sia gli investitori retaili che gli istituzionali che saranno scappati via allora sarà colui che riuscirà a cogliere questa opportunità generazionale perché potrà comprare azioni a prezzi ridicoli alla metà o anche ad un terzo del loro valore intrinseco. Ma sarà molto difficile farlo perché c'è l'enorme rischio di rimanere immobilizzati dalla paura. E Buffett infatti dice che anche gli investitori più esperti quelli che sanno come funziona questo gioco nel 2008-2009 sono rimasti comunque paralizzati dalla paura. Non ce l'hanno fatta a reagire. Anche perché, pure se i prezzi erano incredibilmente bassi e chiaramente tutti gli investitori esperti lo vedevano nessuno metteva in discussione che fossero super economiche le azioni i prezzi comunque non smettevano di scendere quindi c'era da prendere il coltello che cadeva che nessuno era disposto a fare. Tutti hanno cercato in quel periodo di aspettare che il coltello si poggiasse a terra e quando avevano capito che finalmente il peggio era passato era già troppo tardi era già passata la paura era già passata la depressione e anche se i prezzi erano magari ancora buoni per comprare l'opportunità di una vita era ormai bella che è passata. Quindi è semplice in teoria ma sarà molto difficile da applicare anche avendo un consente intellettivo di 180 non sarà facile perché anche davanti all'evidenza di ottime azioni a prezzi stracciati il nostro cervello cercherà di trovare qualsiasi motivo per non comprare perché è guidato dalla paura dirà che la crisi non è ancora finita che ci sono problemi strutturali nell'economia di lungo termine che forse gli Stati Uniti sono arrivati al capolinea o l'Europa o la Cina o quello che sarà e che ci sono rischi geopolitici quindi non è il momento troveremo una marea di motivazioni per non agire e poi ci chiederemo ma è mai possibile che tutti si sbaglino tranne me? sono il più intelligente di tutti? sicuramente avranno ragione gli altri e c'è qualcosa che non riesco a vedere qualcosa che ignoro rischiando così di perdere questa opportunità generazionale e forse ci vorranno altri 20 anni o 30 anni per averne un'altra e forse non ci saremo più per poterla sfruttare il crollo di marzo-aprile 2020 è stata una buona opportunità ma molto lontana da quello del 2008 perché le valutazioni non erano così depresse come nel 2008-2009 e la depressione è durata un attimo qualche settimana però io sono rimasto paralizzato in quel mese in cui il mercato è sceso del 20-25% il mio cervello mi diceva compra ma il mio stomaco mi diceva aspetta non ho venduto quello che avevo però non ne ho approfittato non ho comprato mi posso consolare che nemmeno Buffett l'abbia fatto ecco perché spero di aver imparato la lezione e quando ci sarà la prossima opportunità ma la vera opportunità generazionale il prossimo 2008 spero di avere il sangue freddo per approfittarne il più possibile speriamo e vediamo ripeto io ho trovato questa lettera stupenda e l'avevo già condivisa giorni fa nel nostro gruppo Discord del circolo dei value investor a cui se volete partecipare perché condividiamo tanti contenuti interessanti come questo vi basterà supportarmi con una piccola donazione su Patreon link in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate di queste parole di Rochon un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide ciao da Davide ciao da Davide ciao da Davide